per me per quanto mi riguarda è inammissibile fare una prestazione nuovamente del genere perché dopo l'andata che tu perdi 6 a 1 6 a 1 in ritorno mi aspetto la vittoria ma mi aspetto proprio che te li mangi e invece hai pareggiato di nuovo con il bodo glint con il bodo glint che anche oggi ha dimostrato di avere qualità anche in qualche singolo più della Roma perché questi Solvac e Bodheim oggi ci hanno fatto ballare non c'erano con Bull Reynolds non c'era nessuno delle riserve la Roma oggi non ha nessuna scusa i rigori sì c'erano due rigori per la Roma per farli di mano nette ma non ti puoi attaccare solo a questo in conference col bodo glint oggi ti sei fatto praticamente gol cioè ti sei fatto praticamente mettere sotto dal bodo glint perché ti sei fatto mettere sotto nel primo tempo e parte del secondo tempo e poi ovvio che ti svegli quando stai perdendo 2 a 1 perché l'unica cosa che puoi fare è provare a vincere la partita o tantomeno pareggiare la partita ma non è possibile non è possibile cioè abbiamo pareggiato io mi aspettavo una reazione incredibile ma penso come tutti ma dopo che perdi 6 a 1 ti sei fatto ridere in faccia 6 a 1 con il bodo glint una sconfitta che rimane nella storia della Roma e di Murigno tu non sei riuscito a vincere io mi aspettavo devo dire la verità volevo una vittoria sono uno di quelli che voleva la vittoria 4-5 a 0 però almeno portare la vittoria a casa o 2 a 1 almeno lo potevi fare io volevo ripeto io gli volevo 4-5 gol dalla Roma oggi però comunque so l'avversario quant'è ma oggi la Roma è come se non ha motivazioni per vincere questa coppa pure per me è una coppa diciamo tanto per cioè è una coppa UEFA è vero sei arrivato settimo e questo è frutto del campionato ridicolo fatto lo scorso anno però i giocatori devono avere le motivazioni per vincere questa coppa perché è una coppa che importa a noi romanisti perché non vinciamo una coppa dal 2008 non è possibile quindi vogliamo vincere una coppa che tra l'altro è una coppa europea che la Roma nella storia non ha mai vinto mai vinto almeno quelle riconosciute dalla UEFA e quindi dobbiamo vincere questo trofeo ma ci sono giocatori che a me mi sembra che non hanno motivazioni per vincere non tutti eh perché per esempio Mancini ci mette l'anima anche se le sue cose le sue le sue le fa Pellegrini che oggi non c'era la vuole vincere perché è il capitano e lo fa vedere che vuole vincere questa coppa e lo vuole vincere per esempio come di che ne so per di Bagnez che è giovane ha vinto poco niente quindi cioè però molti non hanno motivazioni non è possibile non è partiamo con l'analizzare il tutto ma siamo secondi nel girone di conferenza cioè così neanche i passi perché rimangono due partite e vedremo se riusciremo a passare intanto dobbiamo vincere tutte e due ma il destino di questo girone sta nelle mani del Bodo Klimt perché ora affronta due avversari che dovrebbe battere lo Zoria e l'altra l'altra la CSK di Sofia e per me dovrebbe vincere entrambe e non passiamo in conferenza cioè facciamo per me i playoff ma ce la giociamo perché stiamo a pari punti con lo Zoria è una cosa assurda assurda io non vedo mentalità cambiata ancora dopo tre mesi di Mourinho ok diamo tempo il progetto è lungo lungo termine tre anni ma non c'è ancora la mentalità giusta perché oggi sono state ballerine fai il gol anzi prendi gol pareggi devi vincere la partita perché assolutamente riprendi gol ma come se fa 1 a 0 sul Bacca nel 45esimo che tira giro di potenza veramente precisissimo sotto al 7 bel gol ma qui ma come se fa cioè perdiamo sempre palla al centro campo e il secondo gol è ancora più imbarazzante se vogliamo parlare di questo perché poi ok nel secondo tempo la Roma entra bene ma doveva farlo per forza nel primo quarto d'ora ha fatto i giochi benissimo e crei tanto sulla fascia perché parliamoci chiaro prima che uscisse Zaniolo e comunque il Sharawi che è stato il migliore in campo della Roma e il Sharawi ha rotto la fascia cioè ha fatto tanto ha creato tanto tante conclusioni infatti per me è l'unico che forse oggi si salva in uno dei pochi diciamo Zaniolo anche ha creato un po' però egoista e Abram non gli sono arrivati i palloni però pure lui cioè non lo so non gli arrivano i palloni ma prova a riconquistarsene non lo so infatti poi allora il gol a giro bello sì di il Sharawi bello assistizionale un'apertura poi però arrivai sotto ma in un momento che pareggi una partita che devi vincere non puoi di andare sotto non puoi ma come se fa ma come se fa ma come se fa 2-1 Boteim e sbagliamo a centro campo vere tu ridicolo ancora i peggiori posso dirveli Mkhitaryan e vere tu come le altre partite basta non è possibile Mkhitaryan dattela sbagliata il Sharawi è molto basta il Sharawi è titolare il Sharawi è titolare titolare basta perché anche oggi ha dimostrato di esserlo anche se giocavano insieme perché mancava Pellegrini ma Mkhitaryan stava pure nel ruolo in cui l'anno scorso ha fatto i gol gli assist ma se non è motivazione o se non te fate giocare vai via da Roma quella è la porta hai capito ma che davvero che stavamo a far più a per culo dal Boto Klint quei cartelloni del 6-1 stavano a ridere dopo i gol ma che stavamo a fa ma come se fa 2-1 Bodemme ripartenza Mancini traversa porta vuota lì non lo so se gli è arrivata male cioè è arrivata in corsa ma per me è clamoroso sbagliare pure quel gol la Roma si è fatta mettere sotto da Boto Klint poi l'ultima mezz'ora è ovvio che devi attaccare infatti la Roma come ogni partita l'ultima mezz'ora la domina se la sta a perdere ma è normale devi trovare il gol cioè quello mi pare ovvio cioè non c'è neanche da fare i complimenti per l'ultima mezz'ora è ovvio è ovvio infatti trova il gol il Bagnez è un gol millimetrico è entrato millimetrico nella porta del portiere fa il 2-2 col di testa poi negli ultimi minuti c'hai provato hai messo tre punte c'erano Zaleski Majoral e Shomurodov che comunque Majoral ha fatto un grande assist per il Bagnez parliamoci chiaro Majoral deve trovare più spazio perché un Abram così al momento cioè Abram non gli arrivano i palloni ma Majoral è uno che comunque li sa giocare sa fare gli assist sa recuperarli è veloce cioè per me Majoral può fare qualcosa e può dire qualcosa a Mourinho cioè può dire sul campo qualcosa a Mourinho tre punti nel finale cioè tre punte nel finale ma non probabilmente non sono bastate per vincere solo 1-1 poi ma ti puoi difendere ma che cazzo state facendo solo 1-1 ti difendi come se te va bene il pareggio ma svegliatevi perché poi prendi il gol quando tu dovevi farlo perché stavi nel momento dell'1-1 del gol che hai trovato e poi dovevi sbragarli dovevi dovevi sbragarli invece invece hai preso un altro gol il gol del 2-1 mentalità ancora che dobbiamo vedere da Mourinho perché non c'è mentalità ancora competizione sottovalutata dai giocatori e se non vi fate giocare ditelo subito perché non è possibile farvi mettere sotto la botoglip in due partite prendere 8 gol ma stiamo scherzando per me il migliore del campo resta il Sharawi per giorni già ve l'ho detto pure il migliore è il Sharawi cioè ma non vinciamo da 15 anni sappiate infatti quelli che ci mettono gritta sono quelli che vi ho detto pure Cristante Cristante oggi ha fatto dei lanci stupendi stupendi sui piedi dei nostri giocatori Cristante il Sharawi benissimo ci dice mettere il suo a livello di grinta dico Castorp non riesce ad entrare quando fa un'azione offensiva sbaglia tutti i cross calci d'angoli vede tu oh li batti tutti i bassi tutti non è possibile in classifica Bodo 8 Roma 7 e poi appare i punti L'Ozzoria L'Ozzoria ci dobbiamo giocare al secondo posto ma che sto mi scherzando io mi auguro che arriviamo primi ma il Bodo per me non perde complimenti al Bodo perché ha fatto la sua partita i deposi sono arrivati 2 a 2 ci hanno preso un po' per culo e hanno fatto ben dopo il 6 a 1 vabbè che devo dire ciao